L'operazione Cresce in Money ha riportato a luce il triste fenomeno delle estorsioni nel territorio brindisino. I carabinieri continuano a lanciare appelli agli imprenditori affinché trovino la forza di denunciare. Il leader della Lega, Matteo Salvini, a Ceglio e Messapica per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime regionali e amministrative. Anche a Brindisi, come in tutta Italia, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale hanno organizzato un presidio di ricordo di Paolo Borsellino davanti ai beni sequestrati alle mafie. Prosegue la rassegna un'emozione chiamata libro a Ostuni. La scrittrice Sara Rattaro ha presentato il suo romanzo La giusta distanza. Nasce in spiaggia a Ostuni e arriva a un app per il monitoraggio e la scoperta delle spiagge del territorio. Ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Domenica 19 luglio, in apertura, purtroppo ormai da qualche giorno, torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus. In tarda mattinata la Regione Puglia ha diramato il consueto bollettino. Le notizie non sono positive. Il Presidente della Regione, Michele Mediano, sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi, domenica 19 luglio, sono stati registrati 1.776 test per l'infezione da Covid-19 in Puglia. Si sono registrati altri 7 casi positivi, 4 dei quali in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce e 1 in provincia di Bari. Non si sono registrati fortunatamente decessi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in tutto in Puglia 2.215.649 test. In Puglia sono 3.930 in tutto i pazienti guariti. Attualmente però ci sono ancora 79 casi positivi. Su questa situazione e nuovi contagi in crescita è intervenuto il Professor Pierluigi Lopalco. I casi registrati nelle ultime 24 ore, spiega il Professor Lopalco, coordinatore, come sappiamo, delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, riguardano tutti i cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono al lavoro per stabilire le catene di contagio ed evitare il propagarsi dell'infezione. Ancora una volta, dice Lopalco, va rivolto un appello a tutti i cittadini affinché prendano le precauzioni come l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perché il virus, seppur in maniera minore, continua a circolare, purtroppo, anche nella nostra Regione. E adesso la cronaca torna all'incubo delle estorsioni. Ieri, dopo l'operazione Crash & Money, che è stata brillantemente portata a termine dai carabinieri, è giunto un appello da parte degli stessi militari, un appello rivolto agli imprenditori del territorio affinché trovino la forza per denunciare. Potrebbe allargarsi l'inchiesta Crash & Money dei carabinieri che ha portato all'arresto di otto persone che dovranno rispondere a vario titolo di ben 52 capi di imputazione. In manette ieri mattina erano finiti Domenico Marangi, 23 anni, di Villa Castelli, sempre di Villa Castelli, arrestati anche Donato Carluccio, di 24 anni, Martino Barletta, di 47, Ciro Carlucci, di 46 e Leonardo Leone, di 27 anni, arrestati con loro Eligio De Felice e Antonio Venza, entrambi 25 anni, di Grottaglie, e Martino Marangi, 46enne, di Martina Franca. Un altro soggetto è ancora ricercato, gli indagati sono 19 in tutto, furto pluriaggravato in concorso, tentata estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, e ancora resistenza pubblico ufficiale, ricettazione aggravata in concorso, detenzione, porto in luogo pubblico di arma da fuoco, danneggiamento aggravato in concorso, danneggiamento seguito ad incendio, furto in abitazione, pluriaggravato in concorso e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nell'abuso esercizio di attività finanziaria e usuraia. E sì, e questo è uno dei punti principali dell'inchiesta. L'operazione infatti ha riportato a galla il fenomeno delle estorsioni nel territorio brendisino, tant'è che il comandante della compagnia carabinieri di Francavilla Fontana ha lanciato un vero e proprio appello agli imprenditori affinché trovino la forza di denunciare. Per tanti imprenditori oggi possono tirare un spirito di sollievo e possono, soprattutto quelli che non hanno denunciato, possono venire nelle nostre caserme e far presente che anche tanti anni fa sono stati vittime di estorsione. I carabinieri di pezzi di greco di Fasano, coadiuvati nella fase esecutiva da un'unità cinofila di Modugno, hanno arrestato un 46enne fasanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato contestualmente per detenzione abusiva di munizionamento. In particolare l'uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 10,5 grammi di cocaina, suddivisa in due dosi, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura. Nel corso dell'operazione, in casa del 46enne, sono state rinvenute anche 33 cartucce di vario calibro detenute illegalmente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro al termine delle formalità di rito. L'arrestato è stato rimesso in libertà così come disposto dall'autorità giudiziaria. Lasciamo la cronaca, almeno per il momento la ritroveremo più tardi nel corso del nostro giornale. Adesso ci occupiamo di politica. Prosegue il tour pugliese del leader della Lega Salvini, che questa mattina è stato a Ceglie Messapica. Prosegue il tour pugliese del leader della Lega Matteo Salvini. L'ex vicepresidente del Consiglio è stato a Ceglie Messapica per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime regionali amministrative, a sostegno del candidato sindaco Francesco Locortondo. Per la Puglia decidono i pugliesi e io sento tanta voglia di cambiamento dopo le chiacchiere di Vendola e di Emiliano, quindi non vedo l'ora che arrivi a Settendere perché la Puglia si merita una sanità migliore, delle ferrovie migliori, un'acqua che esca dai rubinetti e non si disperda per metà dall'acquedotto e poi un turismo che invece dei cronacini ospiti turisti che pagano, non quelli che vengono a pagamento. La burocrazia di Regione Puglia sta massacrando le imprese agricole e turistiche, quindi uno dei primi impegni che ci prendiamo quando andiamo in Regione come lega è tagliare la burocrazia regionale. Per quello che riguarda il Governo, un Vice Ministro dice ai ristoratori e agli imprenditori in difficoltà non siete capaci, cambiate mestiere, è una vergogna e si dovrebbe dimettere domani mattina. Diciamo che la vittoria in Puglia ci potrà dare una mano per mandare a casa anche un altro indegno pugliese che è attualmente Presidente del Consiglio. A livello regionale il centro-destra è compatto dopo 15 anni grazie alla Lega. La Lega è il primo partito in Puglia, il primo partito in Italia, però ha fatto atto di umiltà e generosità sostenendo la squadra. Mi piacerebbe che anche gli altri movimenti del centro-destra abbiano umiltà e generosità nelle elezioni locali. Non penso solo a Ceglie, ma penso anche ad Andria e penso ad altre realtà. In realtà io vengo da Lecce, dove le divisioni del centro-destra hanno permesso alla sinistra di vincere e di fare scempio della città. Tra i presenti in piazza anche un gruppo di contestatori che ha attaccato il leader della Lega. Vene vai o no? Vene vai sì o no? Vene vai o no? Vene vai sì o no? Vene vai o no? L'emergenza Covid ha gravemente compromesso la già delicata situazione economica del territorio brindisino. Così l'ex senatore Oprepio Curto, la politica locale, deve aumentare il livello del suo dibattito. La gravissima emergenza economica brindisina, acuita dagli effetti del Covid-19, rappresenta una bomba ad altissimo potenziale che prima o poi non potrà che deflagrare, con conseguenze devastanti anche sull'ordine pubblico del capoluogo, oltre che sui complessivi equilibri sociali. A dichiararlo è l'ex senatore Oprepio Curto, a margine degli ultimi dati forniti da tutti gli organismi accreditati secondo i quali gli effetti del coronavirus, trasfusi in un sistema economico gravemente compromesso, come quello brindisino, starebbe per condurre al di sotto della soglia di povertà più della metà delle famiglie del capoluogo messapico. Se a tutto ciò, a proseguito Curto, si aggiungono i segnali inquietanti che vengono dai rigurgiti di una microcriminalità mai sufficientemente adeguatamente contrastata, appare di tutta evidenza l'assoluta necessità di elevare il livello di un dibattito politico locale che, tranne rare eccezioni, rimane da tempo confinato nell'ambito della sterile polemica. Ebbene, sotto questo profilo, ha rimarcato l'ex senatore, il dibattito politico brindisino registra da tempo una grande assenza, quella del ceto medio, ovvero di quella borghesia illuminata, composta da professionisti tecnici, dirigenti, uomini di cultura e dell'impresa, da troppo tempo, per i più diversi e svariati motivi, rimasta ai margini dei grandi temi. Questo segmento sociale, ha concluso Curto, va coinvolto senza indugi nella individuazione di un modello di sviluppo che, consegnato e affidato alla rappresentanza parlamentare locale, deve trovare riscontri nelle aule della politica nazionale, sì da evitare a brindisi un salto nel buio di periodi storici ormai dimenticati. Anche a brindisi, come in tutta Italia, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale hanno organizzato un presidio nel ricordo di Paolo Borsellino nell'anniversario della sua scomparsa. La manifestazione si è tenuta nel rione Paradiso, dinnanzi ad uno dei beni sequestrati alla criminalità. In occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino, gli uomini della sua scorta, Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale di Brindisi hanno organizzato un presidio di ricordo davanti al centro di aggregazione giovanile del rione Paradiso, un bene sequestrato alla mafia che è stato restituito alla comunità. Questa è un'iniziativa che in tutta Italia viene svolta da Gioventù Nazionale, il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia. L'intento è quello di commemorare la strage di Paolo Borsellino della sua scorta, venuta 26 anni fa, quest'oggi di 26 anni fa. L'intento è appunto quello di ricordare il sacrificio di queste persone e lo stiamo facendo proprio qui in un posto... Un luogo simbolo. Un luogo simbolo perché apparteneva, era un edificio che è appartenuto alla mafia, che è stato confiscato dallo Stato, è stato poi assegnato al Comune che durante la prima giunta di Mennitti e grazie anche all'operato dell'assessore dell'epoca Cesare Mevoli è stato riconvertito in un centro di aggregazione giovanile e di cui la città può vantarsene. Quindi non è un caso che abbiamo scelto questo posto proprio per stare a indicare che tanti stabilimenti, tanti edifici in tutta Italia confiscati dalla mafia sono abbandonati e che devono invece essere utilizzati per la comunità, per il modo che vengono appunto riqualificati e messi al servizio della città. È estate, è tempo di manifestazioni ma anche di cultura e ad Ostuni anche quest'anno si tiene la rassegna, un'emozione chiamata libro. Prosegue la rassegna, un'emozione chiamata libro a Ostuni. La scrittrice Sara Rattaro ha presentato il suo romanzo La Giusta Distanza, un romanzo intenso e vero, le cui pagine respirano autenticità, quotidianità e che racconta di due persone che impareranno sulla loro pelle cosa significa amore, come questo possa essere il corrispettivo di matrimonio, quali due facce della stessa medaglia. Sì, è nata dalla voglia di raccontare qualcosa con cui la mia generazione ogni tanto si picchia un po', no? Spesso le persone della mia età si chiedono ma come facevano i nostri nonni e i nostri genitori ad avere queste lunghe relazioni, questi lunghi matrimoni, probabilmente anche molto felici nel tempo, mentre noi siamo una generazione che tende sempre a ripartire. Ecco, allora ho preso due protagonisti e ho tentato di metterli sotto stress. Loro sono una giovane coppia, nel senso che sono due persone giovani, due adulti giovani, tra i 40 e i 50 anni, ma in realtà stanno insieme da oltre 20 anni. E se stai insieme da oltre 20 anni, oggi ne hai visto di tutti i colori. Venendo invece a questo periodo che abbiamo vissuto, come lo hai vissuto e se questo periodo ti sta facendo scrivere qualcosa di particolare? Allora, l'ho vissuto come tutti, chiusa in casa, a Genova, nella mia città. La parte più difficile forse è stata la gestione del bambino nei 5 anni, perché la scuola quando manca, manca fortemente. Quindi un saluto a tutti gli insegnanti. Inizialmente ho avuto delle difficoltà a raccontare, perché forse la preoccupazione, l'idea di questa situazione molto drammatica che ci stava succedendo intorno, mi aveva un po' tolto quella voglia di giocare con la narrativa. Poi invece per fortuna è tornata e quindi ho ripreso a scrivere regolarmente, sia per ragazzi che per i grandi. Torniamo alla cronaca. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nel corso della notte a San Michele hanno tratto in arresto un 61enne ospite presso un BNB del posto di origine italiana, ma residente all'estero, condannato per violenza sessuale. L'uomo era destinatario di un decreto di revoca della sospensione di ordine di carcerazione e ripristino dello stesso ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano, in quanto già condannato dall'autorità giudiziaria proprio per violenza sessuale. L'arrestato al termine delle formalità è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi su disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, la linea Valla Regia, curata oggi dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV, da Dario Spagnolo. Le bellezze della natura, le bellezze del nostro territorio e adesso parliamo di Torre Guaceto, dove è partito il progetto in spiaggia con la bici, al via il percorso ciclopedonale della riserva. Abbiamo ascoltato il presidente del Consorzio, Corrado Tarantino. A partire da oggi gli utenti di Torre Guaceto potranno fruire del percorso ciclopedonale che dall'area parcheggio del Consorzio di Gestione dell'Area Protetta conduce sino alle spiagge. Da martedì invece potranno muoversi in totale autonomia anche gli utenti che, lasciata la propria auto nell'area di sosta autorizzata, decideranno di prendere in fitto una bici. Lo strumento di due giorni rispetto all'apertura del percorso si deve esclusivamente alla necessità che il mezzo venga prenotato il giorno precedente rispetto a quello di utilizzo. Diverso è il discorso per chi raggiungerà l'area di sosta alla guida della propria bicicletta che chiaramente potrà fruire del percorso già dalla giornata odierna. La scelta di attivare quest'anno un servizio ciclopedonale che collega l'area di sosta all'area marina protetta di Torre Guaceto è legato sostanzialmente a tre necessità. La prima è quella di continuare a ridurre l'impatto antropico dell'uomo sulla riserva stessa. La seconda è quella che già abbiamo cominciato l'anno scorso tra l'altro, vorrà dire fare di Torre Guaceto il luogo comunque in cui viene promossa anche una qualità e uno stile di vita positivo. Dopo il divieto di fumo che quest'anno è stato allargato a tutta l'area marina protetta mentre l'anno scorso riguardava soltanto la parte del territorio di Carovigno, quest'anno vogliamo promuovere la mobilità lenta, l'uso delle bici e le passeggiate a piedi. In terzo anche per una questione di sicurezza degli utenti stessi. Già l'anno scorso notavamo non poca gente che decideva di raggiungere a piedi il parcheggio partendosi dalla spiaggia di Penna Grossa e lo faceva attraverso il ponte o comunque la strada asfaltata. In questo modo potranno farlo in sicurezza senza rischiare di intercettare, di incrociare auto. Lo facciamo consentendo anche a chi ne ha voglia di potersi fittare le bici che il consorso metterà a disposizione. Queste bici possono essere fittate solo su prenotazione il giorno prima per una questione esclusivamente organizzativa. Vogliamo promuovere un'idea nuova di vivere e di poter vivere la riserva sempre e comunque tutelandola. E intanto c'è una novità ad Ostuni in termini turistici perché arriva l'app in spiaggia. Località Capienza, informazioni sullo spot di riferimento, spiaggia dog free, presenza a parcheggio, accessibilità, roccia o sabbia e tanto altro saranno queste e anche altre le informazioni reperibili grazie all'app per la gestione delle spiagge pubbliche di Ostuni. L'app è patrocinata dall'Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione. L'app in spiaggia, così si chiama, è uno strumento che raccoglie per la prima volta una selezione accurata delle spiagge libere pugliesi con i rispettivi servizi. L'utente potrà così scegliere la località balneare in base alle proprie esigenze e allo stato del lido segnalato dal comune di appartenenza. Il progetto è nato da un'idea che abbiamo avuto io e il mio collega Giuseppe, siamo una start-up innovativa, parlando con varie amministrazioni abbiamo notato che c'era l'esigenza di strutturare un'applicazione per la gestione delle spiagge libere e questo dialogo continuo ci ha permesso di ideare quest'app che si chiama Spiaggia Puglia che garantisce un miglior controllo e gestione e monitoraggio delle spiagge. L'app si è evoluta ovviamente anche a livello turistico e commerciale e si è trasformata in un'app di conoscenza del territorio pugliese in generale e di Ostuni in particolare. Entrando nel dettaglio, si potrà scaricare su Android e sui sistemi iPhone, di che cosa si occupa principalmente quest'app? L'app è già disponibile, per scaricarla basta cercare in spiaggia tutto attaccato Puglia, sia su iOS che Android e l'app nel dettaglio mostra una mappa, immaginiamo quindi una mappa con tanti punti, un semaforo, questo semaforo giallo-verde-rosso ti dice lo stato delle spiagge, se una spiaggia è piena o libera. A questo punto noi ci siamo immedesimati, noi siamo di Acquaviva delle Fonte e abbiamo detto ok, come facciamo a scegliere dove andare? Perché non vogliamo andare in una spiaggia che poi magari è piena e tornare indietro, volevamo evitare questo. E quindi a questo punto selezionando i vari punti e quindi scegliendo le varie spiagge, vedendo anche tutte le caratteristiche della spiaggia se c'è sabbia, se c'è scoglio, se c'è parcheggio, se c'è accesso per disabili e quant'altro io posso salvarla nei preferiti, navigare, condividerla con gli amici e andare al mare più consono. I carabinieri di Ceglie Messapica a conclusione degli accertamenti hanno denunciato per mancata comunicazione del materiale esplodente e mancata classificazione di materiale esplodente e omessa denuncia dello stesso materiale una 57enne di Ceglie in particolare a seguito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di armi i militari hanno proceduto alla perquisizione dell'uomo poi estesa una roulotte parcheggiata dove sono state rinvenute tre bombe pirotecniche cilindriche del peso di un chilo e mezzo di cui due prive di etichetta di classificazione e una classificata F4 occultate all'interno di una busta nera. Su disposizione dell'autorità giudiziaria gli ordigni sono stati sequestrati e con l'intervento degli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Lecce intervenuti sul posto messi in sicurezza mediante la disarticolazione e il campionamento delle sostanze attive. Il restante materiale è stato affidato al personale dei carabinieri specializzato per la successiva distruzione. È stata una settimana molto importante a Mesagne perché è stata la settimana della festa patronale che si è tenuta seppur ovviamente con diverse restrizioni per l'emergenza coronavirus. Rivediamo insieme questo servizio che ci serve ad annunciarvi anche che da oggi troverete sulle nostre pagine Facebook un ampio speciale curato dalla nostra Anna Saponaro che ripercorre le tappe più importanti di questa settimana così significativa per la città di Mesagne. Le limitazioni oggettive legate al rispetto delle norme anti-covid non hanno certo messo un argine al sentimento profondo della comunità mesagnese nei confronti della Santa Patrona e protettrice nella tre giorni dedicata alla festa patronale che si concluderà domani. Dopo la vestizione ad opera delle consigliere dell'Ordine Terziario delle Carmelitane la Madonna del Carmine è stata condotta nella Chiesa Madre per il momento di preghiera e per la consegna delle chiavi da parte del sindaco Toni Matarrelli. Il sindaco al pari di tanti altri mesagnesi chissà quante volte avrà vissuto questi momenti speciali per la sua comunità ma farlo da primo cittadino sicuramente è un'emozione diversa. È il momento più sentito della comunità mesagnese ed è una festa religiosa e nello stesso tempo una grande festa di popolo. Questa volta ovviamente a causa della vicenda Covid abbiamo dovuto ridurre gli spazi di partecipazione sia rispetto al momento religioso. Il Vescovo ha dato disposizione affinché non ci fosse la processione ed è un fatto ovviamente stabilito a tutela della salute dei nostri concittadini e rispetto invece alla cerimonia della consegna delle chiavi che generalmente viene fatta in piazza oggi si interrà all'interno della Chiesa Madre perché non potevamo fare diversamente. Ciò nonostante non togliamo nulla al valore enorme che ha questo momento per la nostra città. Sindaco un messaggio da parte sua di speranza in questo momento così difficile per tutti e i suoi concittadini? Abbiamo affrontato dei mesi molto complicati, abbiamo sofferto molto ma ci siamo ritrovati ad essere una comunità coesa, forte che insieme ha superato queste difficoltà. Dobbiamo rimanere concentrati e attenti su ciò che accadrà in futuro e il punto di forza rimarrà questa capacità di essere comunità e di stare insieme e di sostenersi l'un l'altro. Oggi e domani invece 16 e 17 luglio sono i giorni della preghiera continua come spiega Don Gianluca Carriero. Sì, da antica data, sicuramente risale all'inizio del Novecento e poi piano piano ha accolto, acquisito questa conformazione. 16 e 17 luglio sono i giorni della preghiera, della preghiera continua attraverso la liturgia eucaristica qui in Chiesa Madre. Davvero fiumi di persone ed è un'immagine molto molto bella, sicuramente che ci richiama la responsabilità perché tanta gente che prega sicuramente ha tanta responsabilità nei confronti del nostro, del proprio mondo verso cui deve portare Cristo e la propria umanità, resa più bella dall'incontro con Cristo. Per cui questi giorni saranno ogni anno e sono ogni anno davvero carichi di preghiera, di celebrazioni, di incontro rafficinato con Maria e con gli amici. E allora da oggi lo speciale sulla festa patronale di Mesagne, sui canali social di Studio 100 TV. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Parte tecnica curata dalla sede di Brindisi di Studio 100 da Dario Spagnolo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.